Cosa intende fare la provincia di Ancona per quanto riguarda la cittadella degli studi? Qualcosa è stato già fatto? Come stanno andando i lavori? I lavori stanno iniziando, nel senso che abbiamo avuto la disponibilità di un'area che passa attraverso una donazione, della quale siamo molto grati, e che è anche la dimostrazione come il privato e il pubblico possono ben interagire nell'interesse più generale di una comunità, in questo caso del fabrianese. La cittadella dei saperi o della cultura, così come ci è piaciuto chiamarlo, nasce su un'esigenza di restituire ai licei, al liceo di Fabriano, una sede prestigiosa quale merita. Dall'epoca del terremoto non ci eravamo riusciti, anche per diverse valutazioni qui proprio locali, e l'idea che invece possa nascere vicino al Morea ci è sembrata vincente, e ci darà la possibilità davvero di avviare tutta una nuova stagione in cui pensare all'infrastrutturazione legata all'esistenza di questi poli scolastici possa rispondere a un'esigenza più ampia che è quella dell'uso della scuola, oltre che negli orari scolastici, anche in altri momenti della giornata, creando appunto poli di attrazione, quali quelli sportivi o dedicati alla biblioteca o comunque alla cultura, all'interno di un campus, così come ambiziosamente abbiamo fatto anche in altre parti del territorio. Indicativamente quando è il taglio del nastro all'incirca? Ma tra la progettazione preliminare ed esecutiva credo che andremo alla fine di questo anno, poi inizieranno i lavori, spero in due anni di essere io a tagliare il nastro. Poi l'occupazione è un problema piuttosto sentito a Fabriano in questo momento, l'Antonio Merloni e le borse di lavoro che la provincia da sempre eroga nei confronti dei ragazzi o di chi si affaccia sul mondo del lavoro. Quali sono gli strumenti che attuerete nei prossimi mesi? Intanto una concertazione necessaria con la regione Umbria e le province che insieme a noi si occupano di questo insediamento così importante quale l'Antonio Merloni rappresenta. L'Antonio Merloni è un'industria storica della nostra realtà e va accompagnata perché la propria crisi non diventi la crisi di un'occupazione molto forte ma anche di un indotto ad essa legata. Quindi noi abbiamo gli strumenti per dare avvio a una stagione che non guarda alla riconversione e basta ma che guarda anche alla crescita professionale con la proposta di borse lavoro e di formazione di indirizzi ben connotati attraverso la formazione professionale. Devo dire che l'assessore Quercetti con l'assessore Ascoli della regione Marche sta già avviando questo tavolo di confronto che si avvarrà di un tavolo previsto per il 24 pomeriggio proprio qui a Fabriano con i nostri colleghi della regione Umbria. E poi il turismo, un'altra perla del territorio. La provincia ha speso in Poiesis la tre giorni del Festival Culturale. Quali sono i prossimi investimenti? Siete stati anche un po' criticati per aver investito in Poiesis. Come rispondete alle critiche? Non capisco da dove vengano le critiche. Ancora non ho avuto direttamente critiche di questo tipo. Noi abbiamo investito 25.000 euro in una iniziativa che ne ha spesi 500.000. Quindi mi sembra una cifra che se avessi potuto sarebbe stata ben più alta, data l'importanza che noi diamo alla cultura come segmento e leva economica in un territorio tutto della provincia e non solo a Fabriano. Stiamo collaborando con Senigallia, con Iesi e con la riviera del Conero con uguali importi, uguali cifre, sempre destinate però a progetti di qualità. E questo di Poiesis sicuramente lo era. C'è una voglia e un appetito, se vogliamo, rispetto ad alcuni filoni della cultura che non venivano tradizionalmente trattati. Anche noi abbiamo impostato una stagione che, visitando i siti archeologici di tutta la provincia, vedrà momenti anche di poesia, oltre che di lettura, di filosofia ed altre cose che stiamo mettendo in campo. Quindi questa iniziativa di Poiesis a Fabriano corrisponde perfettamente al programma culturale, turistico ed economico che la provincia si è data nel suo complesso. Si è svolta qui a Fabriano, va benissimo, è stata solo una delle tante tappe della nostra stagione culturale.